Pietra Camela, la prot in dialetto locale, è un comune abruzzese della provincia di Teramo, i cui abitanti sono detti pretaroli e il cui patrono è San Leucio. Il paese sorge sulle pendici del corno piccolo del massiccio del Gran Sasso, nell'area protetta del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il paese, che appare dopo l'ultimo tornante sulla strada che sale al Gran Sasso, è fatto di pietra, acqua, aria, neve, braci dentro i camini, silenzio e profumi. L'antica meridiana segna la posizione del sole, che asciuga i prati bagnati di ruggiada. Lo scroscio di una cascata accompagna il cinguettio degli uccelli. I massi che incombono sul borgo sembrano giganti buoni, a protezione del silenzio. E le automobili non circolano. Solo i nostri passi echeggiano sull'astricato di pietra, tra le fontane e le vecchie case, sotto gli sporti che congiungono gli angusti vicoli. Paese di belvedere, di panorami, di splendide passeggiate su vecchi sentieri. Pietra Camela è prezioso come la natura che lo circonda. Petra Cumeri e Pietra Cameria sono stati i primi nomi del paese. La prima parte del nome deriva da Preta, che in paleo italico indica il masso, la roccia, la pietra sul quale è costruito il borgo. Tra l'altro in abruzzese pietra si dice proprio preta. Misteriosa invece la seconda parte, che può riferirsi alla roccia a forma di gobba, di cammello, che si scorge dal paese. Come all'invasione dei cimeri provenienti da Oriente. Petra Cimmeria o a Petra Cacumeria, vale a dire pietra in cacumine, ovvero pietra in sommità. Nel 1100 il villaggio nacque in seguito alle invasioni che costrinsero le popolazioni di Abruzzo a rifugiarsi sui monti inaccessibili. Sotto il regno di Napoli il territorio fece parte del feudo della valle siciliana, di proprietà dei conti di Pagliara. Il nome deriva dai primi abitanti provenienti dalla Sicilia in tempi remoti, oppure dalla via Sicilia che congiungeva Roma con l'Adriatico. Una pergamena del 1200 riporta la nomina di un parroco di San Leutti de Petra. Infatti a San Leucio è dedicata una chiesa del borgo e il santo è anche il protettore del borgo. Il 1432 è la data più antica che si legge in paese, incisa su una lapide che sovrasta il portale della vecchia parrocchiale di San Giovanni. Nel 1526 l'imperatore Carlo V concesse al marchese Ferdinando de Alarcon, Mendoza, l'investitura del feudo della valle siciliana, tra i cui paesi c'è Petra Cumeri che sotto gli angioini e gli aragonesi era appartenuto ai conti Orsini. Nel 1590 il borgo venne fortificato dal governatore Marcello Carlonus per difenderlo dai briganti e restò ai de Alarcon, Mendoza, fino all'abolizione della feudalità. Tra il 1860 e il 1865 si intensificò nei primi anni dell'Unità d'Italia il brigantaggio, Piaga presente in Abruzzo, come in gran parte del meridione sin dal 1500. A Pietra Camela, come in tutta la provincia di Teramo, operavano dei capi massa che, alla guida di contadini miserabili, soldati disertori, ladri comuni ed evasi, sostenuti dai borboni e dal clero, saccheggiavano e raziavano in opposizione prima all'occupazione repubblicana francese nel 1799 e successivamente al governo italiano tra il 1806 e il 1815.